io non ci credo no ragazzi no ragazzi no ragazzi scubidubidu where are you we have the work to do now scubidubidu ciao pippo ciao bello grazie dei sette ora quello 5 no 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 grazie tipo di sette ora sotto il tavolo e come la metti qua una lavatrice porca miseria lo so io no no non posso fare back no già messo un bot no ragazzi che ciò che è successo che è qualificato oddio già l'hai fatta la fine giamma stavo all'inizio siamo sempre tre poi a fare in culo tua madre tua sorella per la potera di tua nanna di aca la percepisco agitato è certo salga perso per tutti i punti che mi ha fatto finora tutti gli abbiamo persi tutti dal primo all'ultimo cristo allora cristo ragazzi non riesco ad entrare nel cannone però è che ci andiamo di mezzo noi perché la faccia ce la mettiamo noi e però porco cioè vi sembra vi sembra che tirando vi sembra che tirando un regalo vicino a una pompa di benzina esplode tutto due mesi ciao buono ci provo i ragazzi ho problemi c'è uno qua che gran figata però io voglio andare in realtà a finire la casa della troia Allora ne avevamo la casa della donna volubile la troia Soluta che non pare Porca troia però ho fatto le sei kill è scordato Andiamo andiamo merda E O non c'è ma ok andiamo no 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 cosa io non sto facendo una è andata dobbiamo vincere dobbiamo porta a casa due soldi sai che ci fanno quei soldi desto rivals ci andiamo a firenze let's go andiamo concentrati ragazzi vai ragazzi allora io lo sapete andiamo salve frederick e che cosa che cosa o cazzo perché tutta una merda o due alert o due alert devo togliere un arco cazzo due alert la salsa di soia un cucchiaino di anetro tritato l'aglio schiacciato un pizzico di sale di pepe due cucchiaino di acqua per soia ma madonna viene fuori una cosa così vai in una pentola si amo ancora te l'ho appena detto dai mettiamo ma ecco è un pentolino eh guarda che cos'è ma lì ci fai la carne è un pentolino fai una cosa a parte eh non ce l'ho al pentolino allora adesso che te canto andiamo andiamo si se stanno a push out morto l'altro l'altro freme eh ma fa eh rovashot parco diavolo via che è fata più caro 7 parte della giurma parte della nave bravo ci sta corretto 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 questo è immortale perchè c'è la madre che succhia acqua 34 4 1 2 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 13 15 15 15 12 12 15 15 16 17 17 19 20 Grazie a tutti.